Destino o vuole, in questa domenica di maggio assolutamente caliente, che coincidono il giorno della festa e il giorno del ricordo, e cioè il ventennale della tragedia di Bruxelles. Stadio delle Alpi completamente imbandierato, 12.000 vessilli bianconeri come non si vedevano da anni, quando il tifo vero si esprimeva proprio con il colore delle bandiere e non con il colore dei fumogeni. È finita 4-2 per la Juventus, con gol di Del Piero, Treseguet, Appian, Zola, ancora Treseguet e ancora Zola, autore di una splendida gol che forse chiude la sua carriera. Grandi ovazioni per tutta la partita a beneficio di Del Piero, l'eroe dello scudetto. Alla fine dell'incontro, per la prima volta, la consegna del titolo avviene sul campo e non come di consueto in occasione della cena natalizia in Lega. Cerimoniere è Adriano Galliani, il principale avversario con il suo Milan, ma anche la massima autorità come presidente proprio della Lega. I tifosi cantano tutti in coro, oh Galliani, portaci la coppa. Nel contempo è stato proclamato il nuovo in ufficiale della Juventus, storia di un grande amore e quello che conta è sottolineare la bellezza di tutti i brani e la finalità di beneficenza del concorso. Altro evento storico, seguendo la moda inglese, è il giro per le vie della città. Su un pullman ha scoperto nuovo di zecca della squadra al completo.